Grazie e buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora io comincio a guardare il counter del terrore. Vi racconto una storia perché credo che sia interessante da un punto di vista del che cosa a un certo punto ci o mi è frullato nella testa, da un punto di vista di follia. Nel senso che io dirigo un polo tecnologico che si chiama Comonext, che è un innovation hub, nasce come parco scientifico tecnologico dieci anni fa per volontà della Camera di Commercio di Como. Allora l'idea era portare dell'innovazione in un luogo, il luogo è un vecchio cotonificio di fine ottocento, portare dell'innovazione perché quell'innovazione messa insieme potesse sviluppare delle nuove filiere sul territorio, potesse essere utile alle aziende che insistono su quel territorio per aiutarle ad innovare. E questa è stata l'idea iniziale. Però quello che accade spesso non è esattamente quello che si pensa e quindi quel luogo ha iniziato a portare, ad attrarre imprese che però lo utilizzavano un po' come un condominio. Quindi immaginatevi un bellissimo spazio ricostruito, rimesso a posto, riadattato, quindi un vecchio edificio di fine ottocento che diventa un hub di innovazione attraverso una bellissima operazione di rigenerazione urbana sul territorio. Il problema però qual era? È che se le aziende utilizzano quel luogo come un condominio, arrivano, si insediano, hanno i loro uffici, i loro spazi, i loro laboratori, entrano la mattina, fanno quello che devono fare, escono la sera chiudendosi la porta dietro alle spalle e quindi non riescono a fare cose insieme e non riescono a essere utili al territorio, non riescono a creare del valore, del valore diffuso e condiviso. Quindi la Camera di Commercio a un certo punto dice no, ma così non funziona. Abbiamo bisogno di cambiare il modello, abbiamo bisogno di creare qualche cosa che in realtà aiuti il territorio e le imprese che siamo riusciti a portare all'interno del nostro polo. Oggi calcolate che all'interno di questo hub di innovazione ci sono 140 aziende e circa un migliaio di persone, cioè le stesse persone che c'erano quando l'azienda, quando il cotonificio di allora era ai massimi del suo sviluppo. Benissimo, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a ragionare in maniera completamente diversa. I luoghi come il nostro, in giro per l'Italia ce ne sono diversi, sono tutti dei bei condomini. Il concetto è chi li gestisce pensa e ragiona in chiave di chi ho lì all'interno, le aziende che ospito sono i miei primi clienti e quindi cerco di spremerli nel modo più educato è possibile, quindi cerco di aumentare di un euro all'anno l'affitto al metro quadro, gli do qualche servizio in più eccetera. Noi abbiamo provato a fare una cosa diversa, abbiamo detto ma se invece di considerarli i nostri primi clienti, li consideriamo i nostri primi fornitori, possiamo rivolgerci al mondo esterno dicendo caspita noi abbiamo una marea di competenze all'interno, siamo in grado di metterle insieme, siamo in grado di costruire dei gruppi di consulenza ad assetto variabile andando a prendere ogni volta che serve la competenza dell'azienda A, B, C, mettendole insieme e lavorando per aziende esterne meno innovative. Quindi che cosa è successo? È successo che siamo andati da tutte le nostre aziende, da ciascuna delle nostre 140 aziende e abbiamo chiesto a loro dateci la possibilità di mappare in maniera definita e molto puntuale le vostre competenze, non solo come competenze dell'azienda ma anche come competenze delle singole persone che avete al vostro interno, perché a noi interessa sapere la persona che cosa ha fatto prima, quali sono le sue esperienze, i mercati che conosce ma anche le sue passioni, perché essendo anche incubatore di startup abbiamo bisogno di sapere chi abbiamo vicino e chi ci può dare una mano a svolgere meglio i nostri lavori. Quindi abbiamo detto mappiamo le competenze, con queste competenze mappate siamo in grado di andare verso l'esterno, di andare verso aziende che sono meno innovative delle nostre e non stanno all'interno del nostro polo e portiamo innovazione mettendo insieme i pezzi. Quindi arrogandoci un ruolo di meta organizzatore, di innovazione. Ora fare questa cosa in un paese come il nostro che è fatto di campanili, è un paese fatto di incapacità di fare sistema, endemica, non è facilissimo. Quindi per questo dico che abbiamo fatto una cosa un po' un po' matta. Quindi l'idea è stata cerchiamo di essere capaci di fare sistema aggregando competenze che derivano dalle imprese e poi pian pianino derivano da un sistema sempre più allargato. Quindi abbiamo condiviso il nostro modello di technology transfer con le università, con i centri di ricerca, con le associazioni di categoria sul territorio, con il sistema dei capitali e di fatto abbiamo costruito un oggetto, un modello che si chiama Next Innovation e che fa technology transfer da imprese più innovative a imprese meno innovative con l'innesto quando serve e come serve di competenze che vengono dal mondo dell'accademia e dal mondo della ricerca. Quando abbiamo costruito questa cosa e abbiamo cominciato a vedere che funzionava, quindi funzionava vuol dire in soldoni che genera delle revenue, che genera delle revenue e genera dei progetti di innovazione che prima non esistevano e oggi esistono in questa modalità qua. Quando abbiamo visto che funzionava lo abbiamo raccontato ad altri, siamo andati in giro su altri territori perché l'idea era abbiamo generato una best practice, la condividiamo con altri territori magari piace anche a loro e cominciano a svilupparla anche loro. Quello che è accaduto è stato non che ce l'abbiano copiata perché i nostri soci comaschi mi dicevano guarda attento perché se la vai a raccontare la copiano e io dicevo beh forse è buono che la copino perché se è un meccanismo per mettere insieme competenze più ne mettiamo insieme più. Però insomma a questo punto siamo andati a raccontarla e quello che è accaduto è stato dal mio punto di vista abbastanza straordinario. Quindi altri territori ci hanno detto bellissimo questo progetto, ci piace da matti, vorremmo farlo anche noi ma non lo facciamo da soli, venite a farlo con noi. Allora venite a farlo con noi non era banalissimo perché non era il nostro mestiere, non sapevamo se saremmo stati capaci, non avevamo idea se potesse esserci un modello di replica di un modello su altri territori che sono territori diversi, fatti dagli stessi soggetti, perché ci sono le camere di commercio, le università, le aziende, le associazioni di categoria, ma le relazioni tra questi soggetti sono diversi da territorio a territorio. E quindi noi abbiamo un po' nicchiato, quindi abbiamo fatto finta di niente. Quando abbiamo cominciato a capire che invece ci continuavano a telefonare, a chiamare e dicono ma dove siete finiti, guarda che ci serve questa cosa, la vogliamo fare davvero. abbiamo studiato un po', abbiamo fatto un gruppo di lavoro con economisti dell'innovazione, con consulenti, eccetera, e siamo arrivati a definire un modello di replica del modello con il quale siamo tornati da chi ce l'aveva chiesto. Quindi abbiamo detto, signori noi potremmo fare qualcosa di questo genere, però ci richiede un sacco di energia, dovremmo ampliare la nostra struttura e portare dentro delle nuove competenze e non possiamo farlo gratis, pensando che ci avrebbero e ho detto, ah vabbè, allora pazienza. E tutti ci hanno detto, va bene, d'accordo, facciamolo, non c'è problema. Quindi abbiamo dovuto dire, vabbè, vediamo di farlo davvero. Quindi siamo andati avanti, abbiamo cominciato a ragionare sul modello che passa, adesso il tempo è breve, quindi non vi sto a raccontare tutto, però il concetto è stato come facciamo poi, una volta costruiti altri modelli di questo genere su altri territori, ad esprimere una governance unica che sia una governance capace di creare il sistema davvero. E questo è quello su cui abbiamo lavorato, ovvero abbiamo costituito una nuova società nella quale il nostro hub non è socio, non c'entra nulla, se non perché è stato quello che ha dato il modello, una nuova società che è un progetto industriale che si chiama Sinext, che ha come obiettivo la costruzione di 11 poli nei prossimi sette anni, 11 poli di innovazione nel nostro paese e un primo polo all'estero con l'obiettivo di portare questo modello di technology transfer un po' particolare, un po' innovativo in giro per il paese. Quindi immaginatevi domani che cosa vorrà dire avere non più 150 aziende e 1000 persone come abbiamo noi oggi, ma avere 1500 aziende in Italia e 15.000 persone capaci di utilizzare lo stesso modello per mettersi insieme e fare innovazione. Questo è il progetto. Abbiamo 25 secondi e vi dico perché sono qui e anche perché all'interno di Sinext, quindi di questo nuovo progetto imprenditoriale privato che ha lo scopo e l'obiettivo di portare un nuovo sistema di innovazione nel paese, ci siamo incontrati con Retelit, con il signore di cui avete sentito lo speech prima, quindi l'amministratore delegato e quando abbiamo raccontato questo progetto ha detto questo è il modo di fare il sistema, di mettersi insieme e di unire le forze per fare qualche cosa di un po' più alto. Questo è quello che vogliamo fare, lo abbiamo appena iniziato e una chicca dell'ultima ora. Uno dei poli, quindi non il dodicesimo in Italia, ma sarà quello ulteriore, sarà nel metaverso. Ma non vi dico altro perché poi avremo qualcuno dei nostri speaker che ci parlerà del metaverso, uno dei poli di Sinext, non lo sai neanche tu Federico, uno dei poli nuovo, il nuovo e l'ultimo, quello più moderno diciamo, sarà nel metaverso. Grazie a tutti. Grazie, grazie.